Ah, quanto tempo! Finalmente siamo tornati dal nostro bellissimo ufficio, non vedo l'ora di tornare a fare delle missioni bellissime Anche io, specialmente perché dobbiamo fare un sacco di soldi, Stef, lo sai che c'è un nuovo fighissimo aggiornamento E mi devi comprare una cosa importantissima Che cosa fare? Un bunker Per fare che cosa esattamente? Una guerra nucleare Una guerra nucleare, Fere Sì, sì, mi sembra arrivato il momento, dopo tutti i maltrattamenti che io ho subito a Los Santos, quindi mi sembra giusto raderla al suolo Aspetta un attimo che mi rialzo e te la faccio pagare, brutto disgraziato, che la bomba nucleare te la tiro nell'ufficio con te dentro E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e che si è giochia come GTA 5 E oggi torniamo finalmente a fare un po' di semplice GTA Online Perché il nostro obiettivo principale sarà quello di farci tantissimi soldi per essere preparati al meglio per il nuovo aggiornamento Esattamente, non so quando uscirà l'aggiornamento, però non dovrebbe mancare molto Dovrebbe essere comunque entro giugno Fere, non mi suonare il clacson che ti ho già dato dei calci E lento, andiamo a fare i soldi! Volevo dire che uscirà un aggiornamento che aggiunge tanta roba nuova Si parla di nuovi veicoli super fighi Si parla appunto di bunker che sono delle basi segrete sotto terra che saranno super super fighe Quindi abbiamo bisogno di tanti soldi Però ne abbiamo già fatto un po' Perché ogni tanto comunque giochiamo nell'online anche senza fare di video Io ne ho più di te E quindi ne abbiamo un po' Allora, io ho un milione e otto Fere, quanto hai? Io ho tre milioni e otto Tre milioni e otto Però so già, so già che comunque questi soldi non basteranno Perché sono sicura che le cose nuove costeranno davvero davvero tante Guarda, secondo me ti compri a malapena il bunker con tre milioni e otto Secondo me neanche un veicolo Figurati i veicoli Forse ti compri il più brutto dei veicoli, non lo so Come stai? Da sei mesi Two players, one office, quanto tempo? Mi ero dimenticato anche di questo nome terribile Ma non gliel'hai detto che andavamo in ferie, no? No, non l'ho avvisata Lei è rimasta qua tutti i giorni seduta ad aspettare Eh, sì, poverina Infatti è un po' fesa Sta guardando altrove per non dirmelo Perché dice Eh, ma però me lo potevi dire Steph, dai Non ti costava nulla Io sono venuto qua tutti i giorni ad aspettarti E invece potevi avvisarmi Vabbè, se rompe molto, uccidila Però cosa vuoi fare? Carico speciale o esportazione veicoli? Di che cosa hai voglia? Di rubare veicoli o carichi speciali e bellissimi? Dimmi, dimmi Eh, rubiamo veicoli, dai Ok, va benissimo Ok, allora, allora, allora Dobbiamo prima di tutto rintracciare un bel veicolo Rubarlo e poi andare a venderlo Speriamo che ci propongano qualcosa di difficile E che valga soprattutto tanti soldi Perché qua non abbiamo tempo da perdere Consegna la Tyrus al magazzino veicoli Non so quanto valga Ma spero tanti, tanti soldi Allora, allora Questa è una cosa molto carina Che non c'era mai capitata, secondo me Ci hanno mandato un messaggio con tutte le indicazioni Dobbiamo andare a Palito Forest Targa Citrus, suppongo E dobbiamo cercare questa statua di questo falegname Con questa cosa sopra Io continuo a notare una cosa Ogni volta che noi stiamo in città Ci danno le cose vicine alla nostra vera casa Ogni volta che siamo a casa nostra Ci danno le cose in città È fatto apposta È fatto apposta La serie normale Ce la chiedevano tantissimi No, sì, sì Avete ragione Avete ragione L'abbiamo un po' trascurata Semplicemente perché avevamo tanti altri contenuti Contando anche il server moddato Tipo lo stunt L'istante che FF Non si sta perché Oddio Rimettiti in piedi Tranquilla Continuo a fare E dicevo Adesso comunque Contando che siamo anche stimolati Dalle nuove cose da comprare Mi sembra giusto tornare Dai, ti prego Cerca di non ammazzarci Dobbiamo fare dieci chilometri Stai già chiedendo troppo Se ci fai morire Almeno li facciamo con stile Sti dieci chilometri E sennò qua ci si annoia Adesso i consolini Perché non facciamo il server Quello era un albero, Fere Sì Lo conoscevi? Scendi giù dalla montagna Ti scendi bene Non sai neanche scendere una montagna Eccomi, dai Dai, guida così Vado a piedi Vado a piedi, ciao Quasi arrivati Allora la foretta è quella Questa qua destra? Sì, sì Allora, aspetta un attimo No, 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 no Più a sinistra A sinistra è l'altra Scusa, ho sbagliato direzione Lo sai che mi confondo Tu riapriti la foto del messaggio No, me la ricordo bene Tranquillo Ok E io vado piano piano In tutta questa zona Occhi aperti E secondo me la troviamo Eccole lì, lì, lì L'ho già visto Vai dritto? Dritto? Sì, dritto, dritto, dritto C'è in mezzo a questa Questa specie di fatto Lì? Ok, perfetto Andiamo a piedi L'ho fatta a posto Ho parcheggiato la moto Ferre Sicuramente Sicuramente l'ho fatta a posto Perché con la moto Ci sentono e ci notano Invece così non ci nota nessuno Ferre, dai Ringraziami dopo Vieni qua e fai silenzio Perché c'è un sacco di gente Se ci sentono che dobbiamo rubare Ok, ok Allora, prima di tutto Raggiungiamo la statua Via libera, Ferre Via libera Ah, è qua L'unica macchina fighissima È per forza questa Fammi vedere la targa Aspetta, Ferre Si è ritrovata Sai, trusse Questa è quella Allora, qual è? Qual è? Questa, quella Ma è bellissima Allora, distraggo le due signorine E tu prendila Salve Ok Salve, come state? Brava, Ferre Cosa state facendo qua? Chiedile Chiedile Se hanno guardato Uomini e donne ieri Ma per No, uomini e donne Fa schifo Non saprei cosa dire Sì, ma chiedile Se l'hanno visto Poi parlano loro E tu ne metri vai via Ok, sì Hanno detto che gli piace un tronista Ok Quale? Chiedile il nome, Ferre Alberto Muoviti, dai Forza Dai, non li conosco Perché mi fai parlare di cose che non conosco? Allora Però questa macchina è la cosa Prima di tutto Allora, aspetta Spostiamocene un attimino Che non so se qualcuno si arrabbia Ok Lo vedi? Ma la regali per il compleanno Una macchina così? Ti prego Non ti chiedo altro della vita Ferre, ma il tuo compleanno è tra sei mesi Appunto Così racimoli Sei tu che devi farmi il regalo a me No, no, no La macchina è mia L'ho chiesta io Quindi non mi copiare le cose Ok Oh, no, no, no Ferre, Ferre Oh, no Ferre Aiuto, aiuto, aiuto Mi chiami Lester O lo vuoi fare in difficoltà difficile? No, c'è un posto di blocco davanti a noi Lester, Lester Ferre veloce Ferre veloce Oddio Ma perché c'è tutta la polizia? 1700 di danni Ma non è giusto Non l'abbiamo rubata Destra Guardato Oddio, oddio Pensavo tamponassi la polizia nel momento in cui ho tolto Lester Ok, ok Dovremmo essere sicuro 5 km, Ferre Aiuto 5 km Allora, vedo che ci sono altri SEO E quindi altri player che stanno giocando con SEO in questo momento Quindi ho paura perché nel momento in cui passiamo al centro della città ce ne sono diversi Te lo dico Lo so Secondo me stanno già litigando tra di loro Quindi passare lì in mezzo Allora, passiamo dall'autostrada da qua Cosa sembra? Da qui va meglio? Riusciamo ad evitarli passando dritti per qua? Eh, sì, abbastanza Ce ne sono Non so se stanno andando anche loro verso un eventuale magazzino Eh, perché vedo diverse persone col SEO tutte raggruppate Potrebbe essere Potrebbe essere, non lo so Speriamo bene Io per ora penso a non far danni alla macchina Ok Però ti dico In questo momento loro ormai ci avranno notato Hanno visto il nostro cursore Sanno che siamo in questa zona Esatto, infatti è un'ansia assurda E quindi si rischia parecchio Più ansia dello slasher Due chilometri e cinquanta Quindi due chilometri e mezzo Allora E siamo arrivati Dimmi Ferre Mi sembra che si stiano continuando a fare i fatti loro Ok Quindi tu continua per la tua strada Se succede qualcosa ti avverto Ferre, stiamo vicini Ho fatto anche un po' di danni extra perché mi stavo spaventando No, ma infatti Ma qua c'è un player che ci può fare un blocco Uno dei Per me hai visto che veicolo avevano? No, io sto guardando solo la mia mappa Guarda Fai vedere? Lo vedi? No, dov'è? Però è quello giallo Solo tu lo vedi eh Vabbè, lascia perdere Allora, pensa di arrivare al magazzino Non mi interessano i veicoli degli altri Tanto stanno litigando tra di loro No, perché ho visto uno Che ha provato a venire nella nostra direzione Ma era sotto il ponte Per fortuna Quindi ho dovuto fare tutto il giro E quindi noi stiamo continuando a correre Però secondo me era davvero intenzionato A venire a distruggere Anche secondo me Infatti inizia l'anore veloce così Anche se qualcuno ci punta Non ci può raggiungere La vuoi una sgomata No, che distruggi la macchina Eccola Dai, perché la devi distruggere ancora? Lo distrutta Steph la distrutta ufficialmente È schifo Bravo così Abbiamo tutti i finestrini rotti E tutto bucato Ok, ok, ok Allora, qui Poi qua Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta 3.500 dollari E perderemo un po' di soldi Giuro, costano talmente tanto i bunker E quelle cose Che 3.500 dollari è proprio fuffa eh Non ci credo C'è la possibilità di avere 100.000 Di compenso Allora, chiedono delle modifiche di lusso Che ci costano 20.000 Però ci portiamo a casa 100.000 dollari Altrimenti l'autosalone Che ci danno 70.000 Ok E paghiamo solo 10.000 Quindi dobbiamo scegliere Facciamo quella da 100 Tra 60 e 80.000 100, 100, 100 Sicura? Sì, dai Stiamo facendo queste missioni per i soldi Puntiamo al massimo Puntiamo a fare il meglio possibile Ce ne pentiremo malamente Lo so, lo so Segnalatore Rimuovi il segnalatore Targa, questa Vai, perfetta Poi Ehi, bella Oh, mamma mia Che bellezza Ti piace la mia macchina Voglio questa per il complanno Guarda il fumo Guarda il fumo Guarda il fumo Sì, vabbè Bello, bello questo grigio qui Neon E il fumo blu Mi piace un sacco Grazie, 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 grazie Allora E la nostra macchina vale 2.550.000 dollari Dobbiamo venderla a 100.000 dollari Più danni facciamo Più scende il valore Ovviamente 3 km per venderla E siamo pieni Di player Di player Quindi Lo so Ho molta paura Siamo già a 1,20 km Dai che siamo già vicini Allora, non mi sembra Che ci sia qualcuno Che ci stia dietro Ok, ok È già un buon passo Però è tutto a posto Vado a fare, vado a fare Vado a fare Dai che siamo vicinissimi Uh, è pazzo Quello ci voleva far schiantare Oh, mamma mia Vai, vai, vai Occhio, occhio, occhio Tranquilla, bellissima Che voglio i 100.000 tondi, tondi 500 metri Ecco, ma diventa difficile Non sbattere e andare veloce Lo so, lo so Però teoricamente è difficile Anche per gli altri andare veloci Sì, però siamo arrivati E non c'è nessuno nelle vicinanze Vai tranquillo ormai Occhio a questa curva Si fermi Si fermi Eccoci qua Buongiorno Ma qua avevamo già venduto una macchina Me lo ricordo Sì, sì L'avevamo già venduta una È vero, è vero Fatto? Ce l'abbiamo fatta Per una volta senza avere troppi intoppi Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta 100.000 dollari così Tac, fatti In certo stavano dicendo che l'aggiornamento esce martedì Così in fretta Perché non sappiamo mai le date Manca qualche giorno, Fede Ok, ok Non so se abbiamo abbastanza soldi Signorino lo sa che il nuovo aggiornamento esce martedì ed è bellissimo Che bello Sto felicissima, sto felicissima Mi sembrava giusto picchiarla Io ti volevo dire Voglio comprare un'arma simbolica per il nuovo aggiornamento Ok Qualcosa di figo e di potente allo stesso tempo Per festeggiare e per essere pronti alla guerra Vediamo un pochettino Allora dimmi che cosa ti ispira e ce la compriamo insieme Qualcosa di molto cattivo Ok La K Non lo so, volevo qualcosa di un po' più costoso Ok Però la possiamo rendere dorata e renderla costosa Ma io ce li ho già le armi dorate Non sono povera come te Allora, non lo so Dai, forse sì, forse è la migliore Allora, vediamo Quanto costa dorata? Aspetta un attimo, eh Stiamo calmi perché magari costa troppo Non ne ho voglia Cos'è, aspetta Sto ancora comprando munizioni Dammi un secondo Finiture Yusuf Amir Vai Vado Comprate Vado, vado Poi voglio la torcia Perché fa ganso Oh, che bella L'impugnatura modificata Ok Voglio la torcia anch'io Il caricatore a tamburo Che va esteticamente simile a quello Simile a tutta l'arma Bellissimo L'ho però comprato E poi prendi anche il mirino Anche quella Quella estetica Dove è il mirino? Mirino, mirino, mirino Eccolo Ma tu non vedi questo tizio Nel coso dei lavori? Quale? Questo veicolo giallo qua gigantesco Sì Eh, questo ti dicevo prima Ah, io non lo vedevo È lui Ciao, chi sei? Bucali le ruote Mi fai salire? No, non posso Mi fai salire? Sì, le bucate Aspetta Vedi che non riesce più ad andare No, che mi veste Io volevo solo salire Aia Eh, ma sei un po' Ma dai Ma noi volevamo chiacchierare Volevamo chiederti come andava la vita L'ho appena ucciso Così impara Direi che ci possiamo fermare così Non credo che sarà un altro Molto tranquillo Perché c'è il tipo che continua a cercarci Per ammazzarci Anche se muore miseramente E però io continuo a ucciderla La polizia che ci vuole ammazzare Quindi io mi nascondo qui dietro E facciamo il volo all'altro Esatto Allora, teoricamente Se davvero esce il martedì L'aggiornamento Credo che uno o due volte Alla settimana Faremo l'aggiornamento Soprattutto se è figo Se poi fa schifo Facciamo uno o due episodi E arrivederci Grazie Esatto Dipende tutto da come sarà Se è figo Come pensiamo Io penso che Almeno due volte Alla settimana Lo portiamo Fare, sta arrivando di nuovo Ammazziamolo un attimo Per favore Dove, eccola, eccola Che dobbiamo spiegargli Un pochettino come funziona Sono prontissimo Sono morto Ma come? Sono morto Ma perché mi devi sentire Ha rovinato la fine del video Dove dove dovevamo essere pro L'hai deciso? E lo devo uccidere Ci siamo uccisi a vicenda È stato bellissimo Va bene Ecco Così Tutti e due Comunque quindi Ci fermiamo così Fateci sapere con il sondaggio E con i commenti Se siete felici Che appunto porteremo Il nuovo aggiornamento Speriamo di sì Fateci sapere se appunto In che voi vorrete giocare Ah e per di più Credo che saluteremo Questa volta la crew Per fare le missioni Del bunker Quindi Assolutamente sì Se non vi siete mai uniti Unitevi alla crew Che si chiama 2 players on console Qualcosa del genere E ci fermiamo così Bene ragazzi Se vi lascio così Se ci lasciateci un bel like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao